Le indicazioni sono poche, perentorie, ma piuttosto chiare. A Latina nessuno dovrà arrivare senza biglietto. La partita è stata dichiarata a rischio in seguito ai batti becchi, chiamiamoli così, tra le due tifoserie, per cui guardia alta, forse troppo, per un match che potrebbe essere decisivo. La prudenza però non è mai troppa ed allora il primo ostacolo per i tifosi sarà a Latina Sud, zona fieristica dove la Digos ha organizzato una zona di prefiltraggio. Qui verranno censiti i tifosi e i rispettivi biglietti, chi non ce l'ha dovrà virare altrove. L'altrove potrebbe essere Rocca Priora, a sostenere la lupa Roma contemporaneamente all'Avellino impegnata contro la diretta concorrente Lanusei. Chi non è riuscito ad accaparrarsi uno dei 500 biglietti ha già annunciato che così farà. I fortunati invece proseguiranno verso il Francioni per assistere al match, non prima però di aver superato qualche ostacolo legato alla viabilità. Poco prima della partita sulla strada che porta all'impianto dovrà essere fatto brillare un ordigno bellico che potrebbe quantomeno rallentare la transitabilità del tratto. Non solo. Ancora prima di partire la macchina organizzativa dei tifosi ha dovuto lavorare non poco. Nessuno potrà muoversi da vellino con mezzi propri, per cui la Sud ha già precettato sette pullman per raggiungere Latina. Per ogni bus ci dovrà essere un accompagnatore della società ospitata. Dunque alla questura non solo sono stati forniti nomi dei partecipanti al tifo, ma anche dei singoli accompagnatori. Ancora non è stato stabilito da dove partiranno e a che ora, ma in queste ore si scioglieranno anche questi ultimi dubbi logistici. Oltre questo è tutto pronto. Cori, voglia di vincere, desiderio di rivalza. Il dodicesimo uomo è pronto a scendere in campo. Speriamo che gli altri undici manifestino la stessa rabbia agonistica. Grazie a tutti.